Con il tacco Giroud, perde Ketelor, si tocca per Leao, ma perché il tiro di Leao addosso o al difensore o al portiere si è mangiato un gol che io veramente, torniamo, stiamo tornando noi, Tatarusanu sbaglia completamente, l'uscita e poi il tiro, sembra quasi passargli sotto le gambe, Tatarusanu, non chiamiamolo più con la sce, prova al dribbling, Leao il topo, per Salemeckers, palla fuori di poco, un centimetro e mezzo fuori, Tonali, miracolo in controtempo di Vicario, una ciofeca di Tonali, ma la deviazione stava per beffare Vicario, Lammers, prova ad andare in profondità, c'è Tonali, ultimo ruolo, attenzione a Braia, il tiro di Bairami e Tatarusanu si salva, Tatarusanu fa di quelle parate fondamentali, qui è stato bravissimo, è stato in piedi fino all'ultimo, con un giocatore che gli era a 5 metri, Brahim Diaz si ferma due o tre volte, incespica sul pallone, vai a casa, tu non sei un giocatore di pallone, ascolta me, tu hai sbagliato sport, anche tu, fidati, Brahim Diaz non può giocare nel pallone, ma cosa fa, il basket è alto come in questi ipotesi, ma scusa, viene a giocare nel pallone, palla in mano, leao, da solo leao, salta l'uomo, leao, forse ha cambiato strategia, mi giro, non la guardo neanche, parte col destro, gol dell'Empoli, è gol, è gol, è gol, pareggio, leao, pigro questo cross, arriva in qualche modo, ballo, 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 ballo da capo giro, ballo, 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 senta respiro, ballo, 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 30 secondi dopo Scarsi, ma si può sentire la canzone, com'è? eda, c'era, 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 c'era la canzone ballo, ballo da capo giro, ballo, 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 senza respiro, ballo, 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 ballo con l'oncellino, verso che faccia risidere, vai a casa, vai a casa, vai a casa Coline Reby ci la mette giù, fatti fare ballo! Vai! Lanciare laao! Lanciare laao siinäキ reddit... Lozy ook Here! E questo è un canzone, questo qui è un canzone, più grande le ha, musica, e meraviglia, le ha, meraviglia, le ha, meraviglia, e andiamo, dai Milan, sei punti, e andiamo, e andiamo.